ciao ciao amici benvenuti e bentornati qui sul mio canale sono sempre nel mio angolo delle recensioni sono sempre il carletto quindi mi raccomando se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale oggi si recensisce un robotto un mega robotto ragazzi incredibile sono arrabbiatissimo no incredibile perché il robot mi esalta ma sono incazzatissimo perché li paghiamo un sacco di soldi adesso come voi non lo riuscite magari a vedere però mi è arrivato con tutta la scatola sderenata no nel senso c'ha due botte qua così vedete qua una maccatura e girano le scatole le ciappette perché questi jet in questo caso sti jetter quasi paghicchia abbastanza e ce lo dobbiamo tenere pure con questi problemi al packaging invece costano talmente tanto che dovrebbero arrivare illibati illibati dovrebbero arrivare invece una volta ti arriva col packaging difettoso maggior parte delle sfide nell'ultima recensione che ho fatto del gig mi è arrivata anche con una parte danneggiata e quando succedono ste cose ti girano le ciappette le ciappette allora andiamo a recensire minchia quanta quando armette armettine quante teste non me l'aspettavo belle le tre navicelle non me aspettavo sembra carino questo jetter arc questo jetter arc di casa bandai gx 99 non sembra ragazzi niente male lui è grande fatto bene massiccio tutto in metallo cavolo bandai ha iniziato a usare mi sa parecchio metallo parecchia zama guardate qua diviso in tre blister guardate qua spettacolo 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 qua le armi qua il robot e quale navicelle con la basetta quindi qua il libretto di istruzione dai vediamolo tutto bene bene nel dettaglio non pensavo sembra carino sembra carino non lo seguivo quindi ringrazio il massimo perché il suo non seguivo il jetter arc però questo qua sembra fatto veramente veramente bene da andiamolo a vedere bene 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 nel dettaglio allora 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 vediamo gx 99 allora all'interno troviamo due foglietti illustrativi ragazzi allora questo primo diciamo il primo questo qua bianco e nero ci fa vedere il robot messo nel suo stand qua come si applicano le armi come si applicano le navicelle sulla basetta di quale faccio intercambiabili le armi ci spiega vabbè tutto quello che possiamo fare con jetter art a fuori abbiamo un altro mini librettino di due pagine in realtà non è un librettino a colori carino guardate qua fatto discretamente discretamente bene non male non male e quale tre navicelle tre moduli scomposti partirei subito dal primo blister che infatti quello dei tre moduli perché vi faccio vedere una cosa abbiamo subito la sua basettina vedete che si apre vedete all'interno abbiamo le mani di ricambio oltre a questo qua possiamo levare questi due quadratini perché perché andando a levare questi due quadratini abbiamo qua i due agganci che ci permettono di mettere la basetta con la parte positiva delle tre navicelle in volo che vi faccio vedere adesso vedete le tre navicelle non sono male questo è l'aggancio vedete alla basetta ma le tre navicelle ragazzi sono in plastica totalmente in plastica le tre navicelle mentre il gix il robot è proprio in metallo adesso vediamo bene 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 le tre navicelle che è un di più perché non sono nulla di particolare ma non sono neanche brutte quindi stanno comunque sia bene in esposizione specialmente anche la rossa guardate qua in esposizione con il nostro jetter arc infatti magari primo giro glielo facciamo vedere in esposizione poi dopo allora il primo blister l'abbiamo visto che è quello della basetta e la parte espositiva e secondo blister è quello riguardante le armi e i volti vedete queste sono le parti che ci completano se vogliamo tenere su robot la basetta allora andiamo a vedere subito le teste che sono fatte benissimo ma sono in plastica allora guardate qua si stacca praticamente la parte frontale e si va a mettere questa parte qua allora questa è una prima testa vediamo la seconda stiamo attentissimi perché in plastica ragazzi è molto delicata però guardate nonostante piccola come è curata bene guardate qua mi ha sorpreso perché sono piccoline devo dire la verità ma curate veramente bene quest'altra qua sembra identica all'altra praticamente due sono mi sa no questa c'è l'altra e senza il puntino l'unica differenza mi pare sia il puntino vedete degli occhi a differenza dell'altra vediamo adesso mi sono in capo unito su questa cosa qua vediamo sono praticamente identiche solo che una non ha praticamente il puntino degli occhi questa se la potevano ragazzi anche secondo me risparmiare poi vediamo questa parte qua abbiamo questa piccola parte che ci servirà levando questa qua per mettere vedete la scura lascia unita poi dopo questa ve la farò vedere allora questa cosa vedete vediamo ne una però l'altra è identica quindi guardate come è gigantesca ma fatta veramente veramente bene guardate sa qua mi piace è fatta bene e questa qua è la parte che va sulla schiena del jetter arc vedete questa quella parte che va sulla schiena del jetter arc e questa qua dopo gliela monteremo che la vedremo bene 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 e adesso passiamo al jetter arc in sé proprio vediamo è già bello massiccio ve lo dico ragazzi bello pesante non me l'aspettavo finalmente c'è il ritorno un po al metallus in questi ultimi gx che abbiamo visto allora guardate che carino lui è è fatto il bianco un bianco per lato bello a tante parti tipo le gambe qua sono in metallo le parti qua invece in plastica però poi la parte vedete sotto delle braccia anche il ritorno al metallo è bello massiccio ragazzi è guardate qua facciamo di un mezzo busto che non me lo aspettavo ma il jetter arc se lo merita la colorazione proprio bianco bello 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 mi piace questa qua vi ho spiegato si stacca la parte frontale se gli vogliamo andare a cambiare la testa la parte delle spalle anche una bellissima colorazione ragazzi questa parte qua è colorata veramente bene e anche la parte così in trasparenza sulle gambe belle mi piace mi piace anche la colorazione qua delle ginocchia vediamo gli snodi vedete ci fa vedere che la parte però qua interna poi è vuota vediamo a vedere posteriori questo movimento vedete si va ad abbassare la parte qua della gamba è bellissimo articolazioni sembra anche molto resistente e dai lui ci sta ci sta questo oggetto arc non me lo aspettavo è carino guardate qua è veramente carino una parte anche delle braccia mi piace un sacco forse la bassa qualità guardate qua un po sui pugni che pugni sono completamente plasticone cavolo e pugni rovinano un po il modello il pugno non mi piace per niente per il resto guardate qua ragazzi non è per niente male questo getter arc dai vediamolo girare una volta semplicemente lui con le navicelle una volta gli andiamo a posizionare le armi eccolo qua eccolo qua ragazzi getter arc ma sorpreso in bene nel senso io non ho visto l'ultima serie perché anche lui è tratto da una delle ultime serie di getter per l'appunto getter arc lui è fatto veramente bene devo dire la verità tante parti in metallo il bianco è bellino cioè non è proprio male la colorazione le mani forse sono la parte secondo me veramente brutta di questo modello poi questa parte qua dietro vedete si può ruotare quindi la possiamo tenere verso il basso o metterla verso l'alto come ci fa vedere qua vedete il libretto di istruzione ci dice possiamo tenere verso il basso ruotarla verso l'altro ed è veramente mastodontico ho voluto fare infatti questa un po questa scena qua vedete questa scena qua di lui con i pugni aperti va bene dovevo tirarli un po più in su però con le punte verso l'alto lui è veramente veramente carino allora ribadisco io generalmente da tenere prendo soltanto quei robot quelle figure tratte da cartoni animati che seguo che mi sono piaciuti da matti specialmente nell'età infantile anche se rimango sempre un po infantile però generalmente le cose nuove o troppo nuove alcune le faccio altre un po meno quindi questo qua essendo molto recente come serie non penso la farò però questo se lo trovo a un buon prezzo perché questo è del massimo ci farò un pensierino perché veramente non sta male ed è veramente secondo me molto carino dai mettiamogli anche la sua ascia magari la mettiamo già unita vi faccio vedere una cosa carina però per ora niente male niente male ragazzuoli ragazzuoli ecco siamo tornati ritornati date cosa ho fatto gli ho messo la doppia falce chiamiamola così unita bella 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 che gigantesca poi ragazzi guardate cosa è gigantesca gli ho messo la mano con l'artiglio poi come sapete non gli ho messo la parte dietro della basetta perché io adoro i robot e le figure senza la parte che tiene su il robot la figure per l'appunto la parte la barra della basetta che io lo odio ma lui sta bene tranquillo anche così in vetrina non è niente niente male devo dire la verità usciranno poi anche in questa versione archi jetter 2 vince per tre anche il dino jetter bello 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 mi piaciucchio mi piaciucchia anche se non ho mai visto devo dire la verità questo anime non è niente niente male devo essere sincero guardate questa mano demoniaca che però possiamo vedere vediamo 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 che se poteva fare le cose in grande bandai e metterci la mano così chiusa anche in versione demoniaca che ci permetteva di tenere l'arma invece praticamente se li mettiamo le due mani diciamo con gli artigli con gli artigli non possiamo mettergli l'arma e questa forse è l'unica pecchettina perché comunque non è niente male dai direi che l'abbiamo visto più che bene e potremo andare anche a concludere questa recensione del jetter arc gx 99 possiamo concludere col dire che questo jetter arc devo stare attenta non accecarmi con tutte queste punte che ci sono farò le recensioni da cercato non è niente male mi è piaciuto mi è piaciuto particolarmente definito piuttosto piuttosto bene l'unica cosa che guardavo adesso nel dettaglio che nelle giunture di tutto il corpo delle parti bianche ci sono dei punti vedete dove si vede la linea di giunzione un po in tutto il corpo potevano farlo forse un pezzo unico e fare vedere meno le linee come qua vedete le linee di giunzione delle varie parti si vedono se esternamente che internamente anche qua sui fianchi e quindi è l'unica forse pecca fare magari un pezzo unico dove non si vedeva il punto di aggancio diciamo così l'altra pecca che è che non ci hanno messo questa mano con l'artiglio anche in versione chiusa per poter tenere la sua falce diciamo così questa sarebbe stata una cosa interessante più bellina sicuramente di questa qua semplice solo in plastica per il resto nulla da dire non me l'aspettavo nel complesso un bel robot che fa sicuramente una bella figura in vetrina a parer mio non è assolutamente niente niente male spero che la recensione vi sia piaciuta se vi è piaciuta come dice anche jetter ark vedete con la mano demoniaco così pollice alzato attivate la campanellina così mi potete seguire sempre ma soprattutto facciamo spostare le navicelle che si avvicina lui iscrivetevi al canale un saluto dal carletto dal jetter ark alla prossima recensione